Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di una storia che credo sia importante da ricordare, specialmente in un periodo storico come questo. Sono davvero felice di parlarvi di questa storia con questo libro in mano. È pensato per ragazzi, quindi se avete dei bambini vi consiglio vivamente di regalare loro questo libro, che inizia proprio con una ragazza che è in campeggio con i suoi amici in Sicilia, luogo in cui è ambientata la storia di oggi. Parte con la frase, ma perché deve esserci sempre un eroe che salva una fanciulla? Perché per raccontare un'avventura straordinaria bisogna avere per forza un baldanzoso eroe e una fanciulla in pericolo? Inizia così il libro dedicato a Franca Viola, la ragazza che, negli anni 60, in Sicilia, rifiuta il matrimonio riparatore. Franca Viola oggi è simbolo di lotta ed emancipazione femminile. In questo libro Franca viene descritta come la fanciulla che si è salvata da sola, senza l'aiuto del principe. Anzi, si è salvata dal principe. Ma come al solito andiamo con ordine. Franca Viola nasce nel 1947 ad Alcamo, in provincia di Trapani, da una famiglia modesta. Sua madre di nome fa Vita Serro, mentre suo padre, che di nome fa Bernardo Viola, è mezzadro, in una Sicilia in cui la riforma agraria sta provocando un gran fermento per la scomparsa di feudi e la nascita di un ceto di piccoli proprietari, che diventano i nuovi latifondisti. Inoltre, Franca non è figlia unica, perché nel 1956 alla famiglia si aggiunge anche il suo fratellino Mariano. Dovete sapere che nel 1960 la SCAT, ossia l'azienda che si occupa dei trasporti catanesi, decide di inaugurare una corsa riservata solo a signore e signorine. Da un giorno all'altro la linea 27 viene scorporata in due. Da una parte c'è concettina l'autobus per le operaie, mentre dall'altro lato arriva il cosiddetto bus con i vaffi, su cui possono salire solo e soltanto gli uomini. La SCAT pensa che quella sia l'unica soluzione per evitare che le passeggere del 27 vengano quotidianamente immuotrate dai passeggeri uomini, che non si fanno problemi a toccacciare, pizzicare o anche solo provocare verbalmente le viaggiatrici. Andiamo avanti di due anni, perché siamo nel 1962. Questa data è importante perché Franca Viola in questo momento ha 15 anni e con il consenso dei genitori si fidanza con Filippo Melodia, un ragazzo del paese. Filippo non è un bravo ragazzo, e non perché sia uno spaccone che sfreccia per le strade del paese a bordo della sua Giulietta Bianca, fosse solo questo. Il problema è che è facile trovare il ragazzo, sempre armato di pistola, al bar Calipso o a casa di una costituta di nome Anna Oddo. In quel periodo per di più viene arrestato per furto, frequenta persone pericolose e la sua famiglia è mafiosa. Infatti Filippo è nipote di Vincenzo Rimi, un uomo che ad Alcamo, detta legge, si occupa del paese come se fosse di sua proprietà, aiuta anche in effetti la gente, ma sa tutto di tutti e pretende che le persone obbediscano ai suoi ordini. In pratica quell'uomo rappresenta la giustizia e se qualcuno si ribella fa una brutta fine. Il padre di Franca, Bernardo, quando scopre che tipaccio sia questo Filippo, decide di rompere il fidanzamento con la figlia. Chiude anche i rapporti con la famiglia di Filippo, con quella gente lui non ci vuole avere niente a che fare. E sarebbe meglio che anche Franca stia lontana da soggetti del genere. Filippo intanto viene mandato in Germania a lavorare, sta via per un po', però poi torna a casa sua, ad Alcamo. E ovviamente cerca di ristabilire un contatto con Franca, anche se lei di lui non ne vuole più sapere. Sa che è un bel ragazzo, è attraente. A Franca Filippo piace a livello estetico, ma ha dei modi di fare da spaccone che non ha mai sopportato. Neanche quando erano fidanzati. Filippo però è uno che non si rende affatto. Franca a lui la rivuole. Quindi non si fa scrupola a usare minacce e intimidazioni contro Bernardo Viola, il padre di Franca. Chiaramente le sue minacce sono puramente di tipo mafioso. Filippo con alcuni amici brucia la casetta di campagna dei Viola. Distrugge il loro vigneto sradicando in una notte tutte le 500 piante di vite. E porta un regge di pecore o di mucche, su questo le fonti si contraddicono, a pascolare nel loro campo di pomodori. Bernardo viene anche minacciato da Filippo che gli punta una pistola contro, gridando Questa è quella che ti farà saltare la testa. Il padre di Franca però non si fa spaventare. Non si tira indietro. È fermamente intenzionato a proteggere la figlia, tenendola lontana proprio da quel ragazzo. È così che arriva il 26 dicembre del 1965. Quando Filippo Melodia e la sua banda si introducono a casa Viola, picchiano la madre di Franca in modo molto molto grave e poi rapiscono sia Franca che il suo fratellino Mariano, che le si è aggrappato alle gambe nel tentativo di proteggerla. Dopo 48 ore Mariano, il fratellino di Franca, viene liberato. Ma Franca viene tenuta prigioniera, prima in un caseggiato isolato e poi viene portata a casa della sorella di Filippo Melodia, sempre ad Alcamo. Franca rimane prigioniera per 11 giorni e dopo una settimana di segregazione subisce anche violenza intima. La tengono isolata, non le danno nulla da mangiare, quindi in pratica Franca resta a digiuna davvero per 11 giorni. Nei primi giorni del gennaio del 1966, Bernardo Viola viene contattato dai parenti di Filippo per la cosiddetta pacciata, ovvero un incontro volto a mettere le famiglie davanti al fatto compiuto per far accettare i genitori di Franca alle nozze tra i due giovani. Dovete sapere però che il padre e la madre di Franca erano già in contatto con la polizia. Quindi appena vengono contattati da Filippo, corrono da loro per raccontargli ciò che è successo. È così che la famiglia Viola riesce a mettersi d'accordo con la polizia. Fingono di accettare le nozze riparatrici. Sembra accettino anche il fatto che Franca ora debba vivere con Filippo. Il giorno successivo però la polizia interviene all'alba, facendo irruzione nell'abitazione in cui è segregata Franca. Quindi i polizzotti liberano Franca e arrestano Filippo Melodia e i suoi complici. Però nessuno di loro ha timore di finire in carcere per troppo tempo. In quanto all'epoca il rapimento per violenza non è inquadrato come un reato contro la persona. E la legge 544 del codice penale prevede il matrimonio riparatore come alternativa alla pena. Fino a quel momento nessuna ragazza si è mai rifiutata di sposare il proprio carnifice. La paura di essere additata come svergognata, insieme a quella di rimanere zitella per tutta la vita, ha sempre indotto le vittime ad accettare il matrimonio riparatore. Rassegnandosi dunque ad una vita chiaramente infelice, in cui purtroppo, a mio avviso, la violenza diventa doppia. Con la cosiddetta pacciata tutto torna alla normalità. Le famiglie si riappacificano, i reati si estinguono e viene riparata anche l'offesa recata alla società. Però dei danni subiti dalla donna non se ne occupa nessuno. Franca Viola, però supportata fortunatamente dalla sua famiglia, dice una semplice parola. No. Infrange quell'assurda consuetudine. Si rifiuta di dare luogo alla pacciata. Di conseguenza si rifiuta di sposare Filippo Melodia. E quindi a questo punto che si fa, si va a processo. Che si svolge nel dicembre del 1966. La difesa tenta in vano di screditare la ragazza. Sostenendo che in realtà fosse consenziente alla fuga d'amore. O meglio, alla cosiddetta fuitina. L'attenzione della stampa nazionale è, peraltro, alle stelle. Perché di fatto Franca Viola è la prima donna che decide spontaneamente di essere chiamata svergognata. Molti dei 45.000 abitanti di Alcamo non si schierano dalla parte dei Viola. In quanto per molti la scelta di Viola ha disonorato l'intero paese e pure suo padre. Il processo dunque diventa ogni giorno di più di interesse pubblico. Evidenziando i contrasti tra il nord e il sud Italia. Questa è l'Italia del boom economico che sta cambiando profondamente il paese. Le periferie delle grandi città del nord crescono a dismisura. Con l'arrivo degli operai che per l'appunto arrivano dalle campagne del sud. Questi poi sono quegli operai che vanno a lavorare nelle fabbriche in cui si producono televisioni, lavatrici, automobili, frigoriferi o ancora aspirapolveri. Questa è un'Italia complessa e contraddittoria. Perché ci sono quelli che vorrebbero cambiare e quelli invece che vorrebbero resti tutto così. Ci sono donne in carriera al nord. Donne che hanno potuto studiare. Che lavorano negli uffici, nei negozi, negli ospedali. Franca sogna per sé un futuro meraviglioso. Ma ovviamente tutto deve essere contestualizzato al periodo. Pensa di diventare una dattilografa. Perché conosce una ragazza che ha preso il diploma per corrispondenza e poi ha trovato lavoro a Palermo. Franca sogna. Si immagina come una dattilografa. Con indosso un bel tagliore verde acqua al ginocchio. Però ora i tempi sono cambiati. Ora per Franca non è il momento di sognare. Sembra si è dovuta diventare grande e crescere di colpo. Ma non è neanche questo che la preoccupa. Purtroppo Bernardo Viola ormai è sull'astrico. Perché non riesce più a trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. In quanto nessuno vuole offrirgli un lavoro anche solo per non mettersi contro le famiglie mafiosa del posto. Inoltre la famiglia Viola al processo si costituisce parte civile. Il prezzo da pagare è altissimo. La famiglia Viola subisce minacce e ricatti. Inoltre come già vi ho detto l'opinione pubblica è ostile. La famiglia Viola deve vivere chiuse in casa con la polizia che li sorveglia giorno e notte. Il padre chiaramente in questa condizione non ha nessuna possibilità di lavorare. Però la posizione di Franca è chiara e lo ripete. Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce. La ragazza è chiaramente già provata dalla violenza, dal rapimento e dalla vita che sta conducendo e che è costretta a condurre. Oltre a ciò è anche costretta a cambiare legale. In quanto un giorno incontra nello studio del suo patrocinante il parente di uno dei suoi rapitori. Cosa che le pare davvero un tradimento, un'offese intollerabile. Franca viene trasportata da Alcamo a Trapani da una camionetta della polizia. Perché non vuole perdersi neanche un'udienza. Filippo durante il processo tenta di infangare Franca ulteriormente. Raccontando che in realtà i loro primi rapporti risalgono a luglio del 63. E per di più sostiene che sono stati consumati tutti a casa dei genitori di Franca. Approfittando di assenze temporanee. In un colloquio preliminare, Filippo dichiara. Nel dicembre del 1964, appena tornato dalla Germania, potevo vedere la mia ex fidanzata solo quando attraversavo la strada in cui viveva, senza poter scambiare una parola con lei. In questo periodo, dato che il mio unico interesse era sposare Franca Viola in un modo o nell'altro, cominciai a passare più spesso da casa sua. Franca non sembrava più darmi troppa attenzione, ma d'altra parte non appariva neanche infastidita dalle mie maniere. Anna Oddo, un istruttore, testimonia di aver sentito Filippo Melodia e il resto della banda progettare il rapimento. Poi però in aula ritratta tutto, sostenendo di non ricordarsi più nulla. I difensori di Filippo Melodia presentano i loro assistiti come dei bravi ragazzi, messi all'agonia da una stampa lontana e incapace di capire come funzionano queste cose al sud, soprattutto in Sicilia. Filippo Melodia viene condannato il 17 dicembre 1966 a 11 anni di carcere. Poi ridotti il 10 luglio del 1967 al processo di appello a Palermo a 10 anni. La Cassazione conferma la sentenza il 30 maggio del 1969. I complici di Filippo vengono condannati in Cassazione a 5 anni e 2 mesi ciascuno. Filippo Melodia alla fine esce dal carcere nel 1976 e viene ucciso dai ignoti il 13 aprile del 1978 nei dintorni di Modena a colpi di Lupara. Franca Viola, dopo la condanna di Filippo Melodia e il processo, dice Non ho mai avuto paura, non ho mai camminato vedendomi indietro e guardandomi alle spalle. È una grazia vera perché se non hai paura di morire, muori una volta sola. Come avrete capito, la vendetta attesa dai viola da parte delle famiglie dei condannati non arriva. L'arciprete di Alcamo prega e dice che tutto quel baccano farà rimanere Franca una zitella. E invece, alla faccia loro, Franca si sposa il 4 dicembre del 1968 con Giuseppe Ruisi, un amico di infanzia. Pensate che durante il processo Filippo Melodia l'aveva minacciata, dicendole che se avesse sposato quell'uomo lui l'avrebbe semplicemente ammazzato. Ma i due si sposano allo stesso. Franca successivamente rivela che avrebbe preferito non sposarsi, temendo le conseguenze per il suo nuovo marito minacciato da Filippo. Giuseppe a questo punto dice a Franca Meglio vivere dieci anni con te che un'intera vita con un'altra. Oggi, Franca Viola vive ad Alcamo e ha 72 anni. Tra l'altro sta ancora con Giuseppe. Ha avuto due figli, Sergio e Mauro. Inoltre ha una nipote che le somiglia moltissimo, che si chiama Sonia. Franca ha detto il riferimento alla sua storia e dai suoi figli. È arrivato il momento in cui ho dovuto dirglielo. Sergio era in prima media. La sua insegnante un giorno disse in classe. Fra qualche anno, nelle antologie, ci sarà anche la storia di mamma di Sergio. Quindi Franca non nasconde la propria storia ai suoi figli. Anche perché la sua foto, il racconto della sua storia, è riportata davvero sui libri di scuola. Ovviamente omettendo i particolari più tristi. Alcuni complici di Filippo vivono ancora ad Alcamo. E Franca, rispetto a ciò, dice L'incontro ogni tanto, ma preferisco evitarli. Se proprio proprio non posso farlo, li saluto. E loro mi salutano, quasi sempre abbassando gli occhi. Magari, chi lo sa, anche loro sono stati ingannati. Io non posso saperlo. Ma magari quello lì gli aveva detto quello che poi ha detto anche al processo. Ossia che io ero d'accordo a sposarlo, ma mio padre, no. La morale che emerge, a mio parere, in questa storia è un grande esempio. A volte, attenzione, non l'ho detto sempre, ma a volte, è possibile cambiare il proprio destino. Siamo noi con le nostre scelte a determinare il percorso della nostra vita. E dobbiamo lottare sempre per difendere i nostri diritti. La storia individuale di Franca Viola si inserisce in quel cammino del raggiungimento dei diritti, ma non solo, che ha caratterizzato l'Italia negli anni 60. Già in quel periodo la storia di Franca Viola diventa di interesse nazionale ed ha il grande merito di infiammare ulteriormente il dibattito che si sta accendendo e che diventa centrale con i movimenti del 68 relativi, chiaramente, alla condizione femminile. Sull'esempio di Franca Viola, molte ragazze iniziano a rifiutare, in effetti, le nozze riparatrici. Ma purtroppo, solo nell'agosto del 1981, il matrimonio riparatore sarà cancellato insieme al diritto d'onore nella legislazione italiana. Nel 1996 viene approvata una nuova legge sulla violenza intima. La violenza diventa un reato non più contro la morale, ma contro la persona. Franca Viola, a mio parere, è una di quelle donne, spesso dimenticate, alle quali tutti noi dovremmo dire grazie. Perché forse il cambiamento, senza di lei, per carità, ci sarebbe stato, ma a mio parere sarebbe stato molto, ma molto più lento. Detto questo, ragazzi, spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Io vi mando un bacione, mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie a tutti.